Tifosi, tifosi viola, un saluto a tutti da parte del vostro India Violato. Allora, purtroppo finisce 2-2, una partita, quella della Fiorentina con il Genk, prima partita di Conference League di quest'anno, e purtroppo si riparte con un pareggio. Una partita un po' diversa rispetto all'anno scorso con il Riga, perché l'anno scorso successe di tutto e di più, conclusioni per noi, esagerate, pali, portiere loro, fece di miracoli. Quest'anno invece comunque si era approcciato in maniera differente. Abbiamo trovato subito il gol con Ranieri, anzi, migliore in campo stasera Ranieri, non solo per i due gol, ma anche per quel tunnel che ci ha permesso quasi di fare un altro gol. Però, alla fin fine non siamo riusciti a concretizzare questo essere in vantaggio. Anzi, devo dire la verità, siamo stati un pochino, anche un po' pasticcioni, a volte troppo frettolosi nell'impostare le azioni, cioè sembrava proprio ci s'avessi fuori culo, insomma, per farla breve. E quindi purtroppo ci siamo fatti riprendere e abbiamo rischiato di capitolare, perché qui pallone l'era mezzo centimetro più dentro di quello spilungone loro e ora si parlava di una sconfitta. Però cominciare il girone di conference, avendo giocato in trasferta con quella squadra con cui, presumo io, quell'altre due non lo conosco bene, ma sulla carta, in teoria, dovrebbero essere un pochino più deboli rispetto al Genk. E comunque una squadra fisica, una squadra che comunque ci ha messo in difficoltà su queste palle ferme. E noi ragazzi non si riesce, e dicono si gioca a zona, ma qui ci scappano sempre tutti i giocatori avversari e ce la piazzano dentro. Cosa c'è da sottolineare? A parte la nota positiva di Ranieri e comunque la buona prestazione di Caio Dei che finalmente ritorna a giocare titolare al posto di Dodò. Poi comunque, diciamo, il resto sulla sufficienza. Purtroppo c'è da sottolineare. Il gol che si è mangiato Milenkovic, perché da lì ti arriva un pallone, cacchio, sei un giocatore, un professionista, posso sbagliarlo io. E poi c'è da sottolineare purtroppo l'ennesimo gol sbagliato da Anzolà che ancora non riesce a trovare la forma giusta, il momento giusto, il tocco giusto, perché comunque anche Beltran, è vero, non ha segnato, ma si è sbattuto, ha corso, ha provato a creare qualche azione, qualche azione propositiva perlomeno. Mentre Anzolà, nei 20 minuti in cui è entrato, sì, ha fatto uno smarcamento di tacco e tutto, però ha avuto qui il pallone che grida vendetta. E lo ripeto, io ci credo in questo giocatore. Però, ragazzi, si allenano tutti i giorni, prima o poi la forma verrà fuori. Io spero più prima che poi, altrimenti, ragazzi, se no comincia ad essere un problema, perché io posso capire che un tu riesci, magari ancora non sei in condizione bene per difendere il pallone, per fare uno scatto, ma qui il go, ragazzi, cioè, Parisi come gliela doveva mettere? Gli ha messo un cioccolatino, gli ha detto, tieni, fa go. E il go non è venuto. Io ci credo, però anche te, un balanzola, aiutami a farmi dire, devo credere in te. Capito? Comunque, insomma, è un punto, si comincia questo girone di conference, ora si dovrà giocare contro il Ferenva, Sosso, come cacchio siamo, il Ciriacichi, insomma, vabbè, quello che saranno, non credo che saranno formazioni come il Genk, però staremo a vedere. E niente, potevamo partire con tre punti, purtroppo non è così, ci dobbiamo rimboccare le maniche, questi verranno a Firenze, speriamo sia una partita completamente differente, però tant'è che 2-2 finisce la prima di conference 2023-2024. E ora ci ascoltiamo ai messaggi dei nostri amici, partiamo dal Chimico Viola. Un saluto all'indiavelato del Chimico Viola, bruttina, bruttina la Fiorentina, bruttina la partita, molto a ruffoni, precisi, lenti, addirittura sulle gambe, l'ultima partitura non abbiamo superato la metà campo, abbiamo rischiato di capitolare al 95esimo, quindi un pareggio che magari ci va anche bene, visto che comunque sicuramente ci giochiamo in primato del girone con questi hit. complimenti a Ranieri che ha fatto i suoi primi due gol in maglia viola, però ripeto, siamo stati molto imprecisi, cioè i gol comunque sono nati su calci piazzati, quindi non la solita Fiorentina, però accontentiamoci di questo pareggio e vediamo che cosa succede. Io comunque continuo a dire che non capisco perché Mandragora giochi sempre titolare a queste partite, non lo capisco. Un saluto a tutti. E a ruota ci ascoltiamo il pizzacchiere. Un saluto a tutti gli amici del Diavolato da vostro pizzacchiere. Bene, chi si chiedeva che fosse il Genk stasera lo ha visto. È una squadra che è arrivata a seconda del proprio campionato, ha fatto il preliminare di Champions, il preliminare di Europa League e adesso in Conference. È una squadra che potevi tranquillamente trovare in finale a Tene stasera, e si è vista. La Fiorentina non l'ha dimeritato, ha tenuto il passo. Trovare l'NVP stasera è normale, è il nostro Luca Ranieri. Però dietro a me è piaciuto tantissimo Milenkovic. È peccato che quel gigante americano è scappato un paio di volte e l'ha buttata dentro, ma come vi ho detto prima, c'era una squadra di tutto rispetto dall'altra parte. Un punto non amaro a mio vedere, è un punto ben trovato e ora si va avanti con il girone, le prossime saranno partite forse un pochino più tranquille e questi li ritroviamo, se non sbaglio, alla fine del girone in casa e quindi poi li tireremo le somme. Ma la strada è ancora lunga e la Fiorentina ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, meglio dell'anno scorso. Un saluto a tutti e buona serata. E quindi dicevamo, fra tutti i messaggi arrivati, ora è il suo primo e onestamente non ve lo posso far sentire perché onestamente mi ha mandato un video e non un audio e non saprei come metterlo su. Lapo, amministratore del gruppo Orgoglio Fiorentino che da ieri praticamente ha cominciato questa collaborazione, ora cercheremo di correggere un attimino il tiro, però mi ha mandato questo video dove è un veramente rammaricato della prestazione, anzi, secondo lui si è veramente rischiato di non portare a casa nemmeno un punto, quindi ora dalle prossime volte anche lui avrà il suo spazio e avrà il suo audio come tutti gli altri amici dell'India Violato. Quindi, detto questo, la Fiorentina Genk finisce 2-2, la Fiorentina torna a Firenze con un punto, si inizia con un pareggio, il girono di Conference League, una partita a tratti, mi è piaciuta, a tratti onestamente no, quindi una prestazione per come è finita da sufficienza, insomma, si poteva mettere la ciliegina se segnavano Mirenkovic o se avesse segnato Inzolà, così non è stato e prendiamo quello che è venuto e non ci rammarichiamo più di tanto. Ci vediamo al prossimo video, prossima partita contro l'Udinese. Forza Viola sempre e comunque, un saluto a tutti da parte del vostro India Violato. Ciao!